Mentre da un lato Lancia difende la presenza dei cantieri e degli operai in centro storico, con il presidente del Lancia e l'Aquila Adolfo Cicchetti, costretto a ribadire in una nota che non si può parlare oggi dell'attività di cantiere come di un ospite sgradito del centro perché senza cantieri non ci sarebbero nemmeno i negozi, le case e gli uffici oggi riconsegnati, dall'altro lato sembra ormai pace fatta tra i commercianti del centro storico e l'amministrazione comunale. La Confcommercio regionale fa un primo bilancio dei due appuntamenti con il venerdì delle famiglie, le giornate dedicate alla pedonalizzazione del centro storico con la chiusura delle vie cittadine al traffico automobilistico ma anche l'organizzazione di spettacoli, negozi aperti fino a tarda sera che hanno avuto sinora un buon risconto di partecipazione e anche di vendite. Un venerdì non basta però per sollevare le sorti dell'economia del centro storico, si sa che da ottobre a marzo c'è il vuoto assoluto. Sì, questo è accaduto negli ultimi anni, noi stiamo lavorando con tante organizzazioni che ringraziamo che gratuitamente si stanno mettendo a disposizione per animare con i loro contributi con anche prossimamente qualche artista importante che lo farà altrettanto gratuitamente. Procede verso l'approvazione in Consiglio Comunale la consulta del commercio, fortemente voluta proprio dai commercianti del centro storico, che erano stati critici nei giorni scorsi nei confronti dell'amministrazione comunale per i tempi troppo lunghi con cui sta affrontando i disagi del ritorno alla vita nel cuore della città. Chi siederà in questa consulta? Chiunque vorrà aderire a questa, quindi tutti i rappresentanti delle associazioni, non abbiamo voluto fare chiusure di nessun tipo, quindi non soltanto le associazioni riconosciute dal CNEL ma qualsiasi tipo di associazione, avrà un suo rappresentante che siederà, potrà eleggere il suo presidente, abbiamo messo dei politici lì ma senza diritto di voto, in modo tale che la consulta si autodeterminerà, sceglierà un suo presidente e sarà un organo del tutto indipendente dalla politica e da tutti gli altri poteri di questa città.